Mostre, film e dibattiti sarà una primavera ricca di appuntamenti a Pavia nell'anno delle celebrazioni agostiniane. Il Comune ha presentato il progetto del Museo Sicuro e Resiliente finanziato da Fondazione Cariplo che ha visto una serie di iniziative e di valorizzazione del Castello Visconteo. Dopo le grandi difficoltà della pandemia si è voluto dare un nuovo slancio ai musei civici dove oltre alle collezioni permanenti si potranno visitare le mostre mnemosi nel Teatro della Memoria e l'Arca Nascosta che offre uno sguardo inedito all'Arca che conserva le spoglie di Sant'Agostino. L'obiettivo è far tornare anche i pavesi a visitare i musei sempre aperti nel periodo di Pasqua. Nelle scorse settimane la Compagnia della Corte ha organizzato una serie di eventi teatrali e sono stati realizzati tre documentari su personaggi che hanno vissuto e lavorato in Castello, Bianca di Savoia, Isabella d'Aragona e Pisanello. Siamo stati chiamati per poter seguire il progetto di Cariplo, la base di Cariplo del progetto del Museo Sicuro e Resiliente al fine di creare tutta una serie di iniziative e coordinare una serie di iniziative svolte da partner che hanno la loro attività sul territorio al fine di ridare una nuova visibilità al Castello e ai musei civici. In quest'ottica abbiamo realizzato oltre 30 eventi che si sono sviluppati a partire da settembre fino a dicembre dove sono state fatte visite guidate, visite teatralizzate, eventi anche con workshop per bambini, sono state fatte tutta una serie di attività che hanno avuto come unico e comuni denominatore il che cosa il Castello oggi possa offrire al pubblico e motivare quegli visitatori che hanno già avuto modo di frequentare il Castello in tempi precedenti di avere una nuova occasione per rivisitarli e conoscerli meglio e poter approfittare di quello che è l'enorme patrimonio che viene messo a disposizione dal museo e dal Castello. Quindi questa è stata l'attività che abbiamo svolto. Unitamente a tutte le persone e alle aziende con cui abbiamo collaborato poi abbiamo definito e sviluppato una serie di materiali che serviranno a livello di marketing e di presentazione di quello che sono le attività possibili all'interno del Castello e del Museo e che quindi diventino un reale strumento per fare comunicazione. Nei musei civici troverà spazio anche la mostra Sant'Agostino, la luce e l'immagine, un viaggio interattivo da Ippona a Pavia che sarà inaugurata il prossimo 28 aprile nella Sala del Rivellino. Un'installazione multimediale curata dal collettivo di artisti milanesi Camera Nebbia che permetterà di immergersi nelle opere d'arte. In tutto il mese di aprile ci saranno poi diverse altre iniziative dedicate a Sant'Agostino. Il programma si può consultare sul sito www.santagostinopavia.eu